Lui l'avete visto, l'avete riconosciuto, è Kyle Eastwood, io gli farei un applauso. Kyle Eastwood è qui con un concerto, un concerto che ci sarà alle 8 ai Murazzi, e anche con un filmato, che ci sarà invece alle 7, che è Eastwood by Eastwood. E' lui che intervista suo padre. Come sapete hanno lavorato tanto insieme, e la passione per il jazz l'ha ereditata da suo padre, da sua madre anche, Maggie Johnson, che salutiamo perché ha 91 anni ed è ancora fra noi e lotta con noi. Sono veramente una famiglia tosta. Tra l'altro, by the way, suo padre sta facendo un nuovo film, che si chiama Giurato numero 2, ha cominciato a girarlo a giugno, ma poi si è fermato per lo sciopero degli attori, e adesso lo sta finendo ad Atlanta, in Georgia, in novembre. Il film è con Nicolas Holt e Toni Collette, e quindi siamo anche felici che vedremo presto un nuovo film di Clint Eastwood. Allora, io vorrei che Kyle ci raccontasse proprio l'inizio, cioè come nasce dentro casa questa passione per il jazz, e come lui viene assorbito totalmente da questa passione. Allora, both my parents are very big jazz... Oh, is this on? Oh, ok. Buonasera. Allora, both my mother and my father are big jazz fans, so I grew up in a house with a lot of music and a lot of movies. You know, I've listened to a lot of records, and particularly jazz records, but a little bit of country and western, and a little bit of Johnny Cash as well. But, and watching a lot of film, really, so my two big passions have always been music and the cinema. No, ho so letto da qualche parte che hai lasciato gli studi per il jazz, a un certo punto. I did, I started on piano when I was young, and when I was maybe five or six. Actually, my father taught me a little bit of piano first, and then I took lessons and I actually learned some guitar for a film I made with my father called Honky Tonk Man in 1982, I think it was. And then I picked up the bass shortly after that, and I was just always playing for fun, you know. I like playing different musical instruments, but I kind of fell in love with the bass. But, I mean, when I was a teenager, I thought maybe I might like to try and be a film director, I was more interested in probably being a director than an actor so much. But, by the time I was in college, when I was about 17 or 18, music sort of took over, really, and I started doing music professionally, more or less, when I was about 19 or maybe 20, and I've been doing that ever since, so it's been a while. Entrambi i miei genitori sono sempre stati dei grandi appassionati di musica e, naturalmente, di cinema, quindi in casa mia si è sempre ascoltata tantissima musica e si sono sempre visti molti film. Musica che non è stata solo musica jazz, ma anche country and western, Johnny Cash, e film di vario tipo, due passioni che sono state sempre coltivate da parte di tutti. Quando ho avuto 5-6 anni ho iniziato a studiare pianoforte, strumento a cui mi aveva già iniziato mio padre, insieme alla chitarra, insieme anche a un po' di recitazione, per esempio nel film di mio padre del 1982, Honky Tonk Man, e poi sono passato al basso, ma devo dire che mi sono sempre appassionato di tanti strumenti musicali. Quando ero adolescente ho persino pensato di diventare regista, sicuramente non avrei fatto l'attore, ma quando mi sono poi iscritto all'università a 17-18 anni, la musica in qualche modo è prevalsa e ne ho fatto poi la mia professione sui 19-20 anni. L'attore, tra l'altro, l'attore lo hai fatto varie volte con tuo papà. Ricordo I Ponti di Madison County, ma anche altri titoli. E non ti è mai venuta voglia in quei momenti di prendere e continuare? E' un'attore? I mean, I enjoyed what I did with it. I mean, I did a lot of little small parts with my father in some of his films. I think the very first one was a film he directed in 1973 called Breezy. And I had a very auspicious beginning, because I had a scene with William Holden. But I didn't have any lines. I was just playing a little kid, you know, like, you know, in a boutique. But anyway, but no, and then I did, I was in Outlaw Josie Wales just as briefly, like a little cameo at the beginning. But then I got killed very quickly in that movie. No, Honky Tonk Man was really the main film that I did with him. But no, I mean, I was always interested in the movies, but I think I would have been more interested in the whole process of filmmaking really and being behind the camera, I think, more so than acting. But as I said, music was too strong, it went over in that respect. But I'm happy that I can still stay involved with cinema a bit, you know, through music and making music for film sometimes. But in reality, yes, I liked what I did, even though my roles were always a bit of a bit of a bit, a bit of a bit of a bit of a bit of a bit. I think the first came to a film called Breeze in 1970, a good honor, because I had a scene with William Holden, but I didn't have any dialogue. I was just a kid in a shop, a cameo, and then I was killed. Maybe the main interpretation was really in Honky Tonk Man. My interest for cinema was always behind the machine and the recitation has not attracted me particularly, until the music has not been prevailed. I'm happy to continue to work in cinema writing songs. That sounds about right. I don't know. That sounds close. Yeah, I enjoyed working on them very much. I was very, very happy with some of the work I did on those. Particularly Gran Torino was one I really enjoyed working on. Letters from Iwo Jima was another one that I did for him, which I was very, very proud of. Yeah, I've always enjoyed working with him, because a lot of times he'll write a little melody at the piano and he wants to incorporate that or use that as the main theme in the film. I'll kind of take it and maybe sort of turn it into a song piece and sort of expound upon it and help make it into the score. And then other times he's just given me the freedom to just write music, you know, and he'll just say write some music for this part. So it's a nice balance of giving me direction and collaborating and then also creative freedom as well. Yes, I've always liked working with him and his films I've always liked it in a particular to do it to do it with the The Crona Sonoma of Gran Torino. Another film that I've loved a lot of is a letter from Ivo Jim I'm fiero of the work that I've done and I like to work together with him when I compose music for his films sometimes I may come up to a melody and he decides to develop it in a certain direction I work and I work it becomes a novel of the film and other times he leaves a white and leaves libero to develop the music so it's a collaboration that can vary with his indications or in absolute freedom from my part In part you have already answered what I wanted to know was exactly that physically how you work your father who's doing that who's doing that Well if he's already written a melody at the piano a lot of times before he starts making the film he sits at the piano and plays around and comes up with a little idea or maybe a couple little ideas and then so he'll ask me he'll play it for me and then I usually record it either with a little recorder or have him play it on the keyboard into the computer so I have it and then I can kind of play with it myself and maybe try different things and ask him if he likes this better or that better and things like that so usually at the piano we start working and then once the film is more or less cut and put together in a rough cut at least we sit down and watch the movie together and usually all the way through and then we'll go back and re-watch a few scenes and pick maybe two or three scenes that are the most important musically in the film and then I'll take those scenes on a DVD and put it on a screen and sit at the piano and try and see where it fits and try and come up with something that supports what's on the screen really a cenni di melodia piuttosto che a mia volta inserirli con la tastiera al computer e cerco di sperimentare un po' domandandomi e collaborando con lui chiedendogli se preferisce una cosa o l'altra quindi il punto di partenza è sempre il pianoforte poi una volta che c'è un rough cut insieme guardiamo questo primo montaggio e selezioniamo due o tre scene che riteniamo particolarmente importanti dal punto di vista musicale e normalmente io a quel punto metto queste scene su un DVD che mi proietto di fronte alle quali appunto io inizio a lavorare al pianoforte e poi ovviamente è lui che mi dà un suo riscontro e mi sostiene nell'elaborazione delle musiche piccolo inciso nel 2000 ho avuto il privilegio di assistere al mix di un film che lui non amava Space Cowboys e lui a un certo punto mi disse dopo tutto posso anche ritirarmi non so se era una battuta detta a un giornalista straniero o se è qualcosa che gli è mai passata veramente per la testa in giornalista di fare film in giornalista come si può fare fisicamente fare così come hai detto ha fatto una ora quindi finisce in le prossime di settimane ma sì credo Penso che questo è il suo grande passione in vita e questo è quello che mantiene giovane e continua. Tuo papà, usa mai la musica sul set durante le riprese? Ha usato, diciamo, quando ha fatto il Jersey Boys, credo che avevano usato la musica sul set, perché, you know, they actually had musicians playing, I think, on the set, like, some of the music live. Not normally, I mean, unless it's a scene that, like, is it, like, in a bar or a club that has music or something, you know, or there's a band playing, you know. But, I mean, sometimes, like I said, he's written bits and pieces of music for a film, you know, before he starts shooting it even, or while he's shooting it, you know, like, like, that's what he did with Unforgiven, he'd kind of written that, more or less, the melody, that's the main theme of that film, at the piano and was kind of working on it while he was filming the movie in Canada. And that's what we end up using in the film. Ma, in realtà, credo che lo abbia fatto l'unica volta per Jersey Boys. Lì c'era musica sul set, perché era la storia del film che in qualche modo lo esigeva. Credo ci fossero addirittura dei musicisti che suonavano dal vivo durante le riprese. Di solito no, a meno che non ci siano scene ambientate in un locale piuttosto che in un club dove è previsto che ci sia un gruppo che suona, una band che sta suonando. Di solito, invece, si tratta appunto di cominciare a degli accenni musicali, come dicevo prima, prima ancora di girare, o durante le riprese, come è stato nel caso degli Spietati, quando ha realizzato questo film in Canada. Quando hai deciso che la musica sarebbe stata la tua professione, se non sbaglio, sei andato a studiare molto a Parigi. Se non sbaglio, hai avuto dei maestri lì. In realtà, ho studiato, ho iniziato a studiare la musica in California, quando ho cresciuto, e poi un po' in collega. I went to the University of Southern California for a short period of time, actually as a film major, because I was thinking to maybe try and direct, like I said. But I was doing some music classes there as well. And then I studied in Los Angeles for a little while, when I was living there for a bit, and that's where I started actually playing with different jazz groups, and actually playing in orchestras, you know, for film music sometimes. And then from there I moved to New York and was living, I lived in New York for about six years or so, and did a lot of, sort of immersed myself in jazz and playing with a lot of musicians there. So that's where I did a lot of my studying, was there and then in California. But I know I studied with a French bass player, actually, in California for a while, named Bunny Brunel. That was in California. That was in California, yeah. But no, then I, and then I started coming play in Europe quite often, you know, during the summer, or maybe a couple times a year, sometimes when I was living in New York. and so, yeah, I've always great opportunities to play and some of the best jazz festivals, I think, you know, are here in Europe. And so, yeah, I decided to come and stay in Europe for a while. So it's been a few years now. I had a few lessons of music also when I was at the University of California. Then I studied and started to play a little bit in Los Angeles in groups jazz or even as a musician when the orchestras had to perform music for the film. Then I lived in New York for six years and it's there that I was immersed in the environment of jazz. And it's true that when I studied in New York, scusate, in California I've had a teacher as a teacher at the low, a musician, a French musician. Then I started, effectively, in the summer, to come very frequent in Europe, to take concerts, to attract each great opportunity. In Europe, I mean, there are the best jazz festivals in music and jazz. Who is the biggest bassist of all time? Who is the biggest bassist of all time? That's a hard question, I mean there's a lot of great ones. Certainly Ray Brown was one I listened to a lot, you know, when I was sort of really getting into playing and especially the contrabasso, you know, but and Ron Carter and who else? James Jamerson was one I listened to a lot, you know, and played on a lot of R&B records. I said one. Yeah, I know, I can't name just one. Well, I mean, I think maybe Paul Chambers or Ray Brown was one of the biggest jazz influences on me, yeah. Sono tantissimi, è davvero difficile dare un'unica risposta. Ray Brown senz'altro l'ho ascoltato molto quando ho iniziato appunto a suonare il basso e il contrabasso Ron Carter, James Jamerson e Paul Chambers. Non posso citarne soltanto uno. Tu sai quanto è importante l'Italia nella carriera, quanto è stata importante l'Italia nella carriera di tuo padre? Per un pugno di dollari e via dicendo. Da quei film lì è venuto fuori un grande musicista, un grande musicista italiano che poi ha vinto l'Oscar sul quale un altro premio Oscar Tornatore ha fatto un documentario che si intitola Ennio Morrigone. L'hai conosciuto? L'hai incontrato? I did meet him, yes. I met him during a concert that he gave in Paris, actually, a few years by about, maybe, when was it, six, seven years ago now. But, yeah, no, I was fortunate enough to see him conduct and give a concert in Paris. And, yeah, I met him after the concert briefly and had a chance to talk with him a little bit. But, yeah, no, he certainly has been a huge influence and, you know, on me and many musicians, I think, over the years. And he's certainly one of the greatest, you know, film composers, you know, ever, I think. No, I'm happy you met him. Ah, yeah, no, I was very happy to meet him and very happy to be able to see him conduct and perform a lot of his music. You know, it was definitely a concert I'll never forget. quando ha diretto un concerto a Parigi. È stato abbastanza recente, in realtà, e dopo quel concerto sono andato a incontrarlo dietro le quinte. È davvero un grandissimo compositore di musica, quindi mi ritengo molto fortunato e sono stato felicissimo di questo incontro. Quando fai una colonna sonora e poi la vai a registrare e hai un'orchestra, dirigi l'orchestra? Do you conduct that one? Do you conduct that one? Um, I have done some and then sometimes we have a conductor because sometimes I'm in the control room, like, doing listening more than I am conducting, so, uh, so, um, to make sure everything gets recorded properly and gets done properly. But, uh, I started out working with, uh, with doing some film work with Lenny Niehaus, who did quite a few scores with my father, and he actually did a lot of conducting on some of the, on some of the scores that I wrote. And, um, but, um, yeah, no, I usually, I usually leave the conducting more often than not to someone who's a conductor. Si, mi è capitato di dirigere l'orchestra delle mie colonne sonore, ma più spesso sono dietro la console per controllare che tutto funzioni, funzioni bene. Lenny Niehaus, che ha lavorato spesso le colonne sonore di mio padre, è normalmente colui che dirige le orchestre quando le incidiamo. Prima, quando si parlava dei film che hai fatto, ho visto che ti sei acceso quando hai detto Gran Torino, come se Gran Torino fosse qualcosa di speciale per te. Um, yeah, it's certainly, it was, it was one of those projects that, uh, everything sort of fell into place very easily, you know, and everything sort of happened very organically and naturally, you know, and that doesn't always happen with every project. But, um, but, uh, with that one, it was very, um, yeah, it was, it came together very well. And I thought the music came out very well. And I thought the music complimented the film very well, you know, and, uh, my father wrote a nice melody. He kind of started the little melody a bit and, and then Michael Stevens and I took it and we worked on it for, I don't know, a few days and kind of made it into like a song form. And then, um, I, we, Michael and I both were friends with Jamie Cullum, uh, for some time I'd spend in London. And, uh, so I asked my father if, if, if it might be an idea to have him try and write some lyrics for it and make a song out of it. So I gave him a copy of the script and he read the script and I think maybe a week later he had all the lyrics written. And, uh, so he went to my father's house and used his piano in his living room and we, um, we recorded Jamie playing the piano and singing it right there. And that's what you hear in the film, actually. Fantastic. Sì, è vero che è stato un, un progetto dove, eh, tutti i pezzi si sono messi insieme come per magia in modo molto organico e armonico, armonioso. Non accade sempre così. E, eh, invece in quel caso, eh, la musica che abbiamo composto per il film era particolarmente adatta e, eh, secondo me ha, eh, è stato un complemento importante alla, alla narrazione. Le musiche sono partite da una melodia, eh, che mio padre aveva, eh, composto e che io e Michael Stevens abbiamo, eh, sviluppato in, in forma appunto di brano musicale. E poi, eh, gli ho detto appunto che, eh, eh, sarei andato a Londra da Jamie Column e gli ho chiesto se gli andava bene che affidassimo a lui, eh, la composizione e la scrittura del, del testo. E gli ho dato da leggere la sceneggiatura del film ed effettivamente lui ha composto a quel punto, eh, il, il brano che abbiamo registrato al pianoforte a casa di mio padre. È stato un momento molto molto, molto bello. Sì, anche perché è finita direttamente nel film, quella registrazione, no? Come? It was, yeah, it was, I mean, I wasn't sure, originally, that that was going to be the version we would use in the film, but it came out so well, and, um, we just, we ended up using that version at the, as though over the ending credits of the film, and, uh, I think we, we added some, some strings to it later, but, um, but, but what you hear is the, is Jamie playing and, and singing live in my father's living room, so, beautiful. Sì, effettivamente è quella che si vede nel, nel film e che passa sui titoli di coda. Ero timoroso sul fatto che la qualità della registrazione fosse sufficientemente adeguata per essere incorporata nel film. Abbiamo, eh, semplicemente, eh, aggiunto, eh, delle, degli archi, ma abbiamo mantenuto quella registrazione. E per quale film di, di contrasto, per quale film avete dovuto invece faticare? 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 Faticare with him? Or just struggle with? Um, I did, I did quite a bit of work on Changeling, and that was, I remember that was a movie that took, that took a long time to do the music on that one, because there was a, there was quite a bit of music, like, just score, background score to do, and, um, and I think he was editing the film, and sometimes he would change, that was a film that, most of the time he doesn't, like, re-edit things, once he edits it the first time, he, it more or less stays, you know, the same, but, um, that film, he was changing some things here and there, and shortening the film a little bit, and so, when they, when they do that, and you've already written music, you have to change the music, and re-edit the music a bit, so, um, that one, that one took a while to do that one, I remember Changeling was, was, was a lot of work. Forse il lavoro, eh, più impegnativo è stato su Changeling, un film che, peraltro, ha molte musiche, eh, e la colonna sonora, eh, lo accompagna quasi interamente, e, eh, lui, eh, normalmente, quando monta un film, eh, eh, non, non riprende in mano il montaggio, invece, in quel caso, eh, effettivamente lo ha modificato e, eh, ha magari tagliato dei pezzi e, quando questo accade, naturalmente, anche le musiche vanno, vanno editate, vanno riviste. Ho la sensazione che da un po' di anni hai mollato un po' il cinema. Ti stai dedicando, soprattutto, alla tua attività musicale? Oh, you would be right. I've been, um, I mean, I didn't make a conscious decision to stop doing film music. I just, uh, I've been just busy doing my own projects and, uh, and, um, kind of focusing on my band and playing with a few other people's bands. And, and then this, this new project that I'm doing is, it's, um, with my quintet, but with a, with full symphony orchestra. And it's kind of a, it's a, it's a, an homage to my father and his films, cause it's all music from his movies that's been rearranged for, for jazz quintet. but with, you know, 55 piece orchestra. So that's the project we've been doing. That's the one we did at Umbria, um, back, um, back in the summer. And, um, we're kind of doing quite a few concerts with that, with this project, this, this year and into next year. Hai ragione. Non è stata una scelta consapevole. Semplicemente mi hanno, mi ha assorbito l'idea di sviluppare dei progetti miei insieme al mio gruppo, al mio quintetto, e a proposito di nuovi progetti, ce n'è proprio uno che vede, appunto, la collaborazione tra il nostro, il mio quintetto e un'orchestra di 55 elementi che sostanzialmente è un tributo, un omaggio ai film di mio padre, alle collaborazioni cinematografiche che io ho fatto per lui e che ci sta impegnando dall'inizio di quest'anno ed è effettivamente il lavoro che abbiamo portato la scorsa estate a Umbria Jazz. Allora, siccome eravamo pochi, siamo molto più di pochi. Se ci sono domande, ecco, ce n'è una. Lì. Prego. Hi. So, your father is a legend, of course, and he is... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Go ahead. I'm sorry. I'm sorry in Italian. So, your father is a legend, and he is a fantastic actor, director, and so on. But besides this, you know him differently as your father. So, I'm wondering what is the legacy he is giving to you, you would like to give on to your children? What is the essence? What makes him, drives him to keep going and not give up? Okay. So, two different things actually. Anna. Are you gonna translate that? Yeah. Are you gonna translate that? Well, he certainly, I mean, transmitted on to me, a love of music, you know? and appreciation of music and appreciation of films. I grew up watching a lot of movies with him and just in general. But, you know, when I would spend time with him, we would watch sometimes like a movie on the television or he would have like a videotape, a Betamax tape or something. Betamax. Betamax is back in the old days of some sort of recent film and we'd watch that and then he's like, okay, well, you choose one film, we'll watch that. And then after we watch that, I get to choose a film. And so he had a large collection of old movies, you know, movies like from the 30s and 40s and 50s and movies that he grew up watching, you know. So he sort of introduced me to a lot of film history. and so I have him to thank for that and music as well. I mean, I hope to, I think I've passed that on to my daughter. You know, she's actually a musician as well and also a big, you know, lover of cinema and stuff. And so she's, we've sort of continued the tradition and watching movies together and appreciating film. Sicuramente l'amore per la musica è la cosa principale che mi ha trasmesso l'apprenzamento per la musica e anche per il cinema. Io sono cresciuto vedendo film insieme a lui. Quando abbiamo l'occasione di trascorrere il tempo insieme, spesso parte di questo tempo è dedicato appunto a guardare insieme un film alla televisione oppure estrae un vecchio nastro in Betamax per vedere film più vecchi e altri film più nuovi magari. E gli scelgo uno io, poi ne sceglie uno lui e conosco, mi fa scoprire dei film che risalgono agli anni 30, 40, 50. Veramente mi ha sempre accompagnato alla scoperta della storia del cinema. E spero di aver trasmesso lo stesso amore per il cinema a mia figlia che a sua volta ha scelto di diventare musicista e spero che a sua volta lei continuerà questa trasmissione, questa tradizione di trasmissione di amore, di passione per il cinema e per la musica. Altre domande? Uno, due. Buonasera, ciao. Buonasera. No, volevo chiederti, chiederle quali sono stati i segreti di suo padre io amo molto suo padre che l'ha fatto diventare il più grande attore al mondo di tutti i tempi perché è il numero uno di tutti i tempi e quali sono, secondo lei, i film più riusciti per lei pescando principalmente dalla serie Cowboy e dalla serie poliziesca dell'ispettore Callaghan e se chiede il risultato di farlo e se chiede il risultato di farlo at the right time you know i guess so um and took it you know made the most of of his opportunities you know and took advantage of his opportunities um uh i don't know it's hard to say exactly what the what the secret is but i mean i know he's passionate about making films and uh and i think you know even when he was doing television in the 1950s you know in early 60s um he would stay around the set when all the other actors would finish their scene and go back to their trailer and you know and go relax he would stay around the set and watch the director work and watch you know everyone you know who was working in the crew and see what really absorb how films were made so so he learned that from early on i think and uh because he knew that's what he wanted to devote his life to i guess you know um and the second part of the question was uh oh the my films the westerns among westerns and uh well i'm a big fan i mean i love the uh the the leone westerns are certainly uh have become iconic you know and uh i think they they changed you know the way westerns were thought of really you know and i think westerns at the time in the united states were kind of becoming un like less and less popular you know around that time and i think it revived the whole genre really you know you know in the italian westerns it did and um and certainly ennio morricone's music you know i think influenced you know the way music was made in films and and especially westerns um so now i'm a big fan of 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 his westerns you know the italian westerns and and uh and uh and um i'm actually a big fan of the outlaw josie wales is one of my favorites of his films and but i mean there's just quite a few i like so you know it's it's hard to pick just one non davvero non conosco non ho idea di quale sia il suo il suo segreto posso dire semplicemente che si è innamorato della recitazione ma più ancora che della recitazione della regia che credo fosse la cosa che lui eh desiderasse fare fin fin dall'inizio ed è sicuramente la parte del fare cinema che eh lo appassiona di più ancora oggi eh se probabilmente se chiedesse a lui qual è il suo segreto direbbe che si è trovato nel posto giusto al al momento giusto e ha colto il massimo delle opportunità che gli sono state offerte senz'altro il suo segreto forse si può riassumere nella passione che ha sempre mostrato in quello che eh faceva fin dal dalle sue prime interpretazioni nel nel 1950 all'inizio degli anni 60 quando lavorava sui set televisivi e alla fine di una giornata di lavoro quando gli altri attori erano già eh rientrati nel loro roulotte lui invece si fermava sul set per osservare il lavoro che faceva la troupe che facevano tutti i tecnici il regista compreso era probabilmente il suo modo di imparare il mestiere sapendo che avrebbe voluto poi eh passare dietro al alla macchina da presa e per quanto riguarda eh il genere spaghetti western di di Sergio Leone io sono un grandissimo appassionato sicuramente sono dei film iconici che sono hanno eh rinnovato e rivoluzionato il genere western che in quegli anni negli Stati Uniti non era più così popolare e a questo sicuramente ha contribuito molto anche le colonne sonore di di Ennio Morricone. Buonasera eh mi leggo una domanda alla domanda precedente eh suo padre è diventato famoso proprio con i film i film western di Sergio Leone quelli dell'ispettore Callaghan con dei ruoli da duro eh al punto che io immagino che per noi spettatori cioè quando pensiamo lui anche che torna a casa ce lo immaginiamo magari al tramonto con la musica di Morricone che arriva vestito da cowboy oppure che è arrivato dopo aver sgominato una band dei malviventi ed entra in casa ed è così. Volevo sapere com'era invece com'era in realtà dal punto di vista del ragazzino se per esempio le lezioni di musica la guardava con gli occhi di ghiaccio era truce sì o era più eh più gentile. No he's I mean he's very he's not really like those characters you know he's he's much more easygoing you know than 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 the characters you see on film you know I mean there's there's certainly you know pieces of his personality in all those characters you know I see when I see them those films you know I can see like bits of his sense of humor or certain pieces of his personality and all those characters but no he's certainly not as harsh and stern and 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 tough in real life you know but um I mean I think actually the the film that is the most like his real personality the character that's most like his real personality is um it's maybe the character in uh Bridges of Madison County I would say is that's that's probably the most of what he's really like you know but um um no I mean he's no he was he we you know he's he's pretty mellow I think you know pretty much more mellow than what you see on film anyway. No assolutamente molto diverso dai suoi personaggi molto più accessibile e indubbiamente nonostante questo eh aspetti della sua personalità sono in tutti i personaggi che ha interpretato oltre al suo senso eh dell'umorismo ma sicuramente non è così duro così così rigido come sono stati spesso i suoi personaggi forse quello che lo riflette di più per com'è nella vita reale è il ruolo che ha interpretato dai ponti di Madison County quindi è in qualche modo più incline al almeno dramma di quanto non lo sia alla durezza di certi personaggi che ha interpretato ha un grande senso dell'umorismo Clint Eastwood questo lo posso Buonasera normalmente un buon film viene gratificato dalla colonna sonora anzi molte volte le colonne sonore hanno determinato addirittura la corsa all'oscar lei trova più difficile comporre musica per un film che poi diventa un grande film grazie anche alla colonna sonora o a un suo album personale Grazie a chi le fare per ciò che si chiama musica per un film? è molto vero a tutti i pensi che il tuo film è un'altro ma che ilarry che sia da un'albomcia film music is obviously you have to write something that complements what's on the screen and is supportive of the emotion and supportive of certain characters and just mainly supportive of the film really so it's a different kind of music writing process really doing film music than jazz really but I don't know it's there's different kinds of film music some scores like from John Williams music almost becomes as important as one of the characters sometimes and is very memorable and then other films music is much more subtle so it depends on what you're going for really what the director wants and how you hear it yourself Sono due procedimenti molto diversi comporre le musiche per il cinema e per un proprio album in particolare considerando la musica jazz che è tutta basata sulla libertà e sull'improvvisazione che in una registrazione di un album può avvenire con un gruppo di artisti e di musicisti mentre la musica da film è a complemento delle immagini che ovviamente il film di cui il film è composto prevalentemente e serve a sostenere le emozioni di determinati personaggi piuttosto che a essere di supporto alla trama stessa del film poi ci sono dei casi in cui la colonna sonora come quelle di John Williams per esempio diventa di per sé un personaggio un altro personaggio della trama e tutto questo dipende ovviamente da quello che è la volontà del regista l'indicazione che un regista può dare a un compositore e il tipo di musica che si vuole realizzare per quel determinato film Buonasera Senta io volevo sapere se secondo lei lo spirito che anima i film di suo padre sia più repubblicano democratico perché secondo me la risposta è meno scontata di quanto potrebbe sembrare che potrebbe sembrare che potrebbe sembrare take for granted la risposta una domanda una domanda buona domanda buona domanda you know that's a good question I mean I have to say my father and I have a lot of things in common and certain tastes in film and music and things like that I don't usually talk about politics that much with either one of my parents really but you know I don't know I mean that's a good question I think I mean in the 70s I know people like you know there were some critics that were sort of very lefty that thought his films were like you know fascist and very right wing you know but you know I don't know I think mostly he just he likes a good story really you know and likes to you know I think he likes to represent sort of the underdog like a lot of the time you know I don't know how you'd say that in Italian but or sometimes the people who can't defend themselves you know so I think maybe that's looked upon sometimes as very conservative or right wing but I don't know it's I mean I guess he's certainly more I guess conservative than some but I don't know you'd have to ask him it's very valid this question my father and I we share many things love and the taste of cinematographic and musical but I don't often I don't know to talk about politics neither with him nor with my mother I remember that in the 70's some critics cinematographic particularly of the left have accused of fascism some of the films that my father considerate much of the left I believe that for him what he conted is a good story to develop in a film and it's true that often the interest of his part is a bit for the data and for the people who are not able to defend themselves and for it is just in this that he's been accused of being of the left he's probably more conservative than others but for it is a question that would be he's done 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 a proposito di questa domanda c'è un film che forse è un film minore ma per me è un film fantastico che è Onky Tonk Man dove lei tra l'altro recita una parte importante che è un film diciamo di loser di perdenti ed è un volevo sapere se siccome comunque è un film in ambito musicale anche se in quel caso di musica country in qualche modo le ha dato uno spunto siccome lei allora era un ragazzino per poi proseguire cioè iniziare e proseguire una carriera di tale livello nell'ambito della musica grazie Oh that's a good question I I mean it certainly got me more interested in music being part of that film and I and it introduced me to a lot of music that I hadn't heard before because you know as we were doing the film my father was playing a lot of the music from that period from country music from the 1930s you know in America and so I got kind of interested in some of those bands like Bob Wills and the Texas Playboys and some of this very early kind of country music but yeah I mean that's where I learned I started to learn a little bit of guitar when I was making that film and I got to meet some actually very interesting musicians who were part of the movie and Marty Robbins being one of them and so I got to watch him work and perform and sing and yes I mean it was definitely helped encourage me towards music I think sicuramente quell'esperienza di recitazione ha contribuito a sviluppare il mio interesse per la musica e soprattutto mi ha fatto conoscere musiche che non avevo mai sentito prima di allora come appunto la musica country americana degli anni 30 e gruppi di cui non avevo mai sentito parlare ed è stato proprio in quel periodo e grazie a quell'esperienza che ho studiato chitarra ho iniziato a suonare la chitarra ho avuto su quel set la possibilità di ascoltare dei musicisti interessanti come Martin Robbins l'ho visto al lavoro ed esibirsi e per me è stato importante Buonasera io volevo chiedere guardando la storia del cinema in generale c'è un film di cui dice mi sarebbe piaciuto fare le musiche e guardando invece al futuro se c'è una storia che le piacerebbe musicare is there una storia che tu piacerebbe potere 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 c'è una storia che tu piacerebbe potere 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 cinema paradiso comes to mind for sure that's amazing score and just about anything Ennio Morricone has done I would have loved to have written but I don't know it would be fun I think it would be fun to do I've always kind of wanted to do sort of like a thriller or a horror movie almost because you could kind of go crazy with the music a little bit I think that's one thing I've never done really or it'd be nice to do actually like an all jazz score for a film you know I think those used to be more more common in you know a long time ago but or less and less now but it'd be nice to do like an all jazz score for a film Sono tantissimi film di cui avrei voluto comporre le musiche Cinema Paradiso è sicuramente una colonna sonora straordinaria tutto quello che ha fatto Elio Morricone avrei voluto farlo io non mi sono mai cimentato e mi piacerebbe davvero farlo comporre le musiche per un thriller o per un horror che credo che uno sia libero di andare in qualunque direzione e mi piacerebbe anche avere l'opportunità ma oggi non è più così frequente che possa capitare di comporre le musiche come erano le colonne sonore jazz di un tempo e appunto non è più così frequente oggi voglio chiedere quali sono i punti che pensi sono importanti per chi sta iniziando a fare musica per film a pensare a studiare o qualcosa così che sono i punti Quali sono i punti principali, forse i consigli principali che darebbe a chi vuole iniziare a comporre musica per il cinema? Do you want to be a film composer? I think, you know, I mean, I got introduced to it just by watching movies, you know, and then when I was a kid, I didn't really think always so much about the music, but then as I started getting more and more interested in music, I started focusing on the music that was in the films, you know. I don't know, you know, I think just, there's certainly a lot of film composers, like, listen to some of their work, you know, and like, I mean, John Williams is definitely one to check out, you know, and he's still doing amazing stuff. I mean, actually, the score for Catch Me If You Can is an amazing one that he did just not that long ago. I mean, Ennio Morricone is certainly one of the all-time greats. Jerry Goldsmith is one that is really great. I mean, Henry Mancini, I know it's a long list. I mean, just, I don't watch, look at some of the old films, you know, I think that have classic scores, you know. Bernard Herrmann's another one has done a lot of great work and did most all of Alfred Hitchcock's films and I think finished his career. The last movie he did was Taxi Driver for Martin Scorsese. So, and that's actually quite a nice jazz score in that film. Yeah, I know, just watch movies and listen, I guess. I feel like this love, what, 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 what I've been doing to become composer for the cinema is that I'm watching films. At my childhood, however, when I found out the films, I didn't focus much on music. È stato poi il mio interesse per la musica che mi ha spinto a guardare i film nell'ottica musicale, a ascoltare le colonne sonore. Sono tantissimi i compositori che possono diventare un riferimento importante. John Williams, che ancora recentemente ha fatto colonne sonore straordinarie, come quello di Catch Me If You Can, che è un film relativamente recente. Ovviamente Ennio Morricone, Jerry Goldsmith, Harry Mancini, i vecchi film. Ehrman, che ha composto colonne sonore per tutti i film di Hitchcock e ha poi composto, ha concluso la sua carriera con la colonna sonora di Taxi Driver di Martin Scorsese. E lì, a proposito di colonne sonore jazz, questo è un esempio importante. Altre domande? Lo congediamo o no? C'è ancora una domanda? C'è una domanda ripetita a Juventus. Ancora. Ok. Allora, no, volevo chiedere, i film più premiati di suo padre sono stati Pal Rider e Unforgiven. Scusi, non ho sentito, mi perdono. I film più premiati Oscar di suo padre sono stati Unforgiven, Pal Rider e Billion Dollars Baby. Io non ritengo che siano i due migliori, ma questa è una mia opinione. Quali sono, secondo lei, i film che avrebbero dovuto avere gli stessi premi o addirittura di più di quei due lì? Oh, in mia opinione? Cioè, sicuramente mi piace i due di questi film, credo che sono molto, molto buoni. But, yeah, I don't know if they're my favorites either, but I think there's other ones that I have special place in my heart for. As I mentioned before, The Outlaw Josie Wales is one of my favorites of his films. I think it was made in 1975 or 6. That's certainly one that I think that was a western that was kind of, that's just as good, I think, as Unforgiven, if not maybe even better. I don't know, I mean, what else? I mean, Mystic River was quite a good film, you know, and I don't know, it's hard for me to pick just one that he's done, that I like the best. I mean, certainly I liked the very first Dirty Harry as well very much, you know, but I don't know if that was going to really win in the Academy Awards. Ma questi sono due film che a me piacciono, forse anche per me non sono i preferiti, e non sono i film che hanno, occupano un posto particolare nel mio cuore. Nel mio cuore c'è il titolo italiano del... The Outlaw Josie Wales, I don't... The Outlaw Josie Wales. The Outlaw Josie Wales. Mystic River è un altro film che secondo me è particolarmente riuscito, e poi appunto l'Ispettore Callaghan, anche se non penso che sarebbe mai stato premiato, in particolare il primo, il caso Scorpio è tuo. Allora, ci dicono di chiudere, c'era un'altra domanda, mi pare, se è rapidissima sì, ma solo se è rapidissima. No, non c'è. No. Ce l'hai, veloce. Non c'è un padre che si è un donna. Non c'è un padre che si è un donna. Non c'è un padre che si è un donna. No, non c'è un donna. At the very ending. At the very ending. You know, I... I mean, I grew up... Since I can remember, you know, he's always been my father. I mean, I don't think of him... I don't think of him so much, firstly, as a movie star and an actor. You know, I think of him... When I see him, I think of him as my father. So, but I mean, you know, obviously I learned when I was pretty young. I realized that, you know, he had a different job than most of my friends' fathers, you know, and was in a little bit different position. So, you know, I mean, I understand that people are curious, you know, and it's always been that way, and I'm sure it always will. So, you know, it doesn't bother me, really. You know, I think he's... I mean, he's had an amazing career and an amazing life, and, you know, I'm very proud of his accomplishments, you know, so I'm happy to answer the questions. Felice di rispondere alla sua domanda. Da che ho memoria per me è sempre stato mio padre e non è stato la grande star del cinema, sia regista che attore. Ho cominciato fin da piccolo a percepire che i padri dei miei amici facevano mestieri diversi e capisco la curiosità che suscita nelle persone e non mi dà fastidio. Indubbiamente ho un artista che ha avuto una carriera straordinaria di cui io vado anche fiero. Allora, ci siamo. Un grazie ad Anna Ribotta. Thank you, grazie. che fa il suo mestiere come pochi. E il concerto di Kyle, Kyle Eastwood, alle otto, ai Murazzi. Thank you, guys. Nove e mezzo, ritiro tutto. Nove e mezzo. Infatti le otto mi sembrava presto. Qualcuno mi ha detto le otto, ma... 9.30. 9.30, ok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti